Nome? Giulio. Età? 21. Professione? Studente universitario. Corso di laurea? Scienze della comunicazione. Dove si trova l'automuniversità? A Savona. Dove ti vedi tra 5 anni? Non ne ho idea. E tra 10? Ancora meno. Credi che in Italia ci sia un futuro per giovani? Direi di no. Secondo te qual è lo stato dell'Unione Europea che sta meglio messo? La Germania. E quello che sta messo peggio? La Grecia. L'Italia com'è messa? È più vicino alla Grecia che alla Germania. Ci credi nel futuro dell'Italia? Sì, abbastanza. Perché hai deciso di fare l'università? Perché sicuramente apre tante possibilità di lavoro. Pensi che oggi in Italia si possa trovare un lavoro senza una laurea? No, è difficile. Quando hai intenzione di laurearti? In teoria tra un anno, massimo due. E dopo? E dopo si vedrà. Ok, grazie per l'attenzione. Saluta i tuoi fan. Ciao.